Stiamo provando a fare una foto dal tetto del Duomo di Milano oggi, una giornata con un cielo che potrebbe permetterci grandi foto se solo uscisse un po' di sole tra una nuvole e l'altra e illuminasse le guglie. L'idea in questo caso è usare l'IRIX 11 mm per dare la sensazione di grandezza e dimensioni del posto. Qui si possono fare diverse foto, possiamo fare una foto alle guglie contro luce, avere delle silhouette oppure di tutta Milano nella sua parte più monumentale in modo da avere una grande panoramica di Milano. L'11 mm ci permette proprio di spaziare completamente. In questo caso c'è molta luce quindi si può scattare a mano libera, cercheremo di avere molta profondità di campo ma con questo obiettivo ne abbiamo finché ne vogliamo e niente altro da dire, vediamo come ci si propone la luce in giornata.